Allora, se continuiamo sul ragionamento di compensare la dinamica del modello matematico, in realtà possiamo in maniera immediata giungere a un possibile controllore che tipicamente compensi direttamente tutto il modello. Cosa vuol dire quello che sto dicendo? Vediamo un attimo. Prendiamo i termini del nostro modello matematico, che non sono massa per accelerazione, cioè tutti gli altri termini, coriolice, intripede, attrito e gravità, e diciamo, vabbè, questi termini sono in un termine n, giusto per avere una notazione più compatta, va bene? Per cui in questo vettore n ci sono tutti questi termini, ok? Che nel mio modello matematico lo riscrivo, e vi ripeto, semplicemente in una notazione compatta, come BQ2 punti più n è uguale a U, dove U è il mio ingresso. Ok, allora a questo punto che cosa facciamo? Beh, linearizziamo, cioè compensiamo tutto quello che ci dà fastidio. guardate, dal punto di vista puramente algebrico, se io nella mia U ci metto U è uguale a n più qualcosa, io semplifico la n al primo e al secondo membro, che è lo stesso ragionamento che ho fatto per la G, per la gravità. Ora, in realtà per la gravità ci sono arrivato tramite l'iavono, sono arrivato alla fine e ho detto, ma io qui potrei cancellare questo termine. Qua partiamo subito dicendo, basta, io cancello tutto quello che mi dà fastidio, quindi n mi dà fastidio. Una volta cancellato n, io posso anche dire, ma se io scegliesse un controllo del tipo B per qualcosa, e quindi un controllo come questo che è nel riquadro azzurro, cioè B per un qualcosa, che io devo ancora decidere, più n, e allora io che cosa ho fatto? Ho cancellato completamente la dinamica del robot, cioè io la sto compensando e realizzo una eguaglianza Q2 punti uguale Y, ancora devo scegliere Y, però la cosa importante è che questo segnale ausiliario Y, a questo punto agisce direttamente sulle accelerazioni aggiunti. questa è una cosa estremamente, diciamo, utile, estremamente potente, nel senso che dal punto di vista teorico, e poi vediamo dal punto di vista pratico quali sono i problemi, però, diciamo io, a questo punto agendo sulle accelerazioni, è come se io avessi cancellato il robot, è come se io avessi qui un doppio integratore per il quale io posso decidere l'ingresso, guardate, questa è un'equazione differenziale del secondo ordine, in cui Q2 punti è, diciamo, l'uscita che mi interessa, e Y è l'ingresso, per cui io posso scegliere Y come mi pare, per sagomare l'uscita, cioè la Q come mi pare, e per esempio, come la posso scegliere Y, beh, la Y non ci crederete, ma io la scelgo in maniera tale che io ho un'equazione differenziale del secondo ordine lineare in Q tilde, quindi la mia Y sarà uguale a Q2 punti desiderato, più Kd Q tilde punto più Kp Q tilde. Se la vado a sostituire al secondo membro dell'equazione Q2 punti, quello che ottengo è banalmente Q tilde due punti più Kd Q tilde punti più Kp Q tilde uguale a zero. E che cos'è? È quello che ci perseguita da teoria di sistemi, anzi da fondamenti di controllo, cioè questa è un'equazione differenziale del secondo ordine, due coefficienti lineari costanti. So esattamente quali sono i modi di evoluzione, in particolare questo è l'errore, quindi l'evoluzione libera, e so che questo sarà guidato dagli autovalori, in questo caso direttamente il polinomio caratteristico, quindi non tanto gli autovalori, chiedo scusa, è guidato dai coefficienti Kd e Kp, poi il coefficiente di Q2 punti è 1 in questo caso, però chiaramente da questi tre coefficienti, 1 Kd e Kp. Ma questo significa che io posso assegnare la dinamica desiderata, veramente quello che mi pare. Poi adesso vediamo quale è la difficoltà nell'implementare questa legge di controllo. Ora, guardate, uno schema a blocchi, qui c'è lo schema a blocchi diciamo concettuale iniziale, cioè io ho il mio manipolatore, il mio ingresso è dato dalla somma di che cosa? Di un termine che compensa tutto quanto la parte colori, centripe, attrite e gravità, che io ho segnato con n, e poi qui devo calcolare, devo essere in grado di calcolare la matrice di inerzia nella configurazione costante, moltiplicato Y, Y deve ovviamente avere anche la retroazione di posizione e velocità. Per cui lo schema a blocchi generale è questo qua, ok? In cui ho questa parte tratteggiata a destra in cui io eseguo la compensazione non lineare il disaccoppiamento. Che vuol dire il disaccoppiamento? Vuol dire che una volta che io ho preso Kp e Kd diagonali, in teoria i giunti non risentono più degli altri, perché qualsiasi forza di accoppiamento viene compensata dal controllore in maniera puramente teorica. Guardate, questo che stiamo vedendo è uno schema che non è molto lontano dagli schemi di controlli automatici, perché? Immaginiamo a questo punto che questo sia tutto il processo, anche con la parte di disaccoppiamento, ok? Qui abbiamo un'azione proporzionale derivativa e qui abbiamo l'azione in avanti. Non so se l'avete studiata, comunque dovreste averla vista, l'azione in avanti. Comunque lo schema di controllo, per quanto adesso facciamo dei controllori avanzati che si basano sulle equazioni non lineari, dal punto di vista concettuale si basa più o meno sempre sulle stesse azioni, ok? Quindi qui possiamo individuare una parte di compensazione, possiamo individuare una parte di retroazione di posizione e velocità e possiamo individuare una parte di azione in avanti. In particolare questa è l'azione in avanti, queste sono le due retroazioni e questa è la parte di compensazione. Ora, la compensazione non è perfetta, questo che cosa significa? Che quando io vado a fare il mio, a implementare il mio controllore, quello che io implemento non è B, ma è B cappello, quello che io implemento non è N, ma è N cappello. Allora questo significa che io quando vado a scrivere quelle equazioni così belle che ho cancellato a destra e a sinistra, lo sto facendo solamente perché sto cercando una soluzione puramente teorica, ma nella realtà non posso fidarmi di conoscere bene il modello, per tanti motivi. Tanti motivi e sono le equazioni, attrito statico l'abbiamo ignorato, esiste l'attrito statico, la conoscenza dei parametri, la discretizzazione che è equivalente a un rumore, i sensori. Per cui è chiaro che io questa legge di controllo la posso immaginare dal punto di vista metodologico, anche perché come vi ho detto questa azione sarà un po' presente un po' dappertutto, diciamo, in tutte quante le leggi di controllo, il fatto di poter compensare tutto quello che riesco a compensare, retrazionare il resto e poi magari aggiungere qualche termine che mi dia robustezza, come vedremo. Deve essere chiaro che io nelle leggi di controllo avanzate ho sempre più bisogno di fare una buona modellistica e una buona identificazione. Ne ho sempre più bisogno. Già quando io controllavo un ingresso o un'uscita lineare, la PDS è il modello matematico e la posizione dei poli del processo è una identificazione banale, elementare, in cui ho solamente per esempio due poli e un guadagno da identificare, però quella è già uno sforzo di modellistica di identificazione. Adesso questo lo è ancora di più. Vogliamo vedere che faccia hanno queste funzioni? Allora, come la faccio ad implementare questo controllo? Beh, devo avere qualcuno che mi ha scritto una funzione di dinamica inversa. Ci ricordiamo la dinamica inversa? La dinamica inversa è quando io, misurando posizione, velocità e accelerazione, do in uscita le coppie. Se qualcuno mi ha scritto questa funzione, in cui posizione, velocità e accelerazione sono input della funzione, perché io le devo misurare con i sensori oppure faccio una derivata numerica, anche se ragazzi l'accelerazione è drammatica, ora vediamo che cosa devo dire sull'accelerazione. Poi nella mia funzione mi devi dare in ingresso anche il vettore di parametri dinamici. O li hai identificati o metti i parametri CAD, mi devi dare i parametri dinamici. A questo punto la mia brava funzioncina dà come uscita le coppie in newtonmetri. Se qualcuno mi ha scritto questa funzione, e per esempio noi ce l'abbiamo, no, questa funzione per i nostri robot, allora io come implemento il mio controllore? Beh, guardate, che cosa sto facendo qui? Guardate, B per Y più N, quindi io il segnale ausiliario gioca il ruolo dell'accelerazione. Tutti gli altri sono Q, Q punto e Q2 punti. Quindi io che faccio? Mi calcolo prima la mia Y, il segnale ausiliario, come Q2 punti desiderato più Kd Qt punto più Kp Qt, che è quello che mi dice la teoria. Poi chiamo la funzione di dinamica inversa che qualcuno mi ha dato, in cui come ingressi cosa gli do? Gli do la stima dei parametri dinamici, la posizione, la velocità misurata dai sensori e questo segnale Y. Ho fatto una notazione un po' più compatta, è sempre MATLAB-like, però ho levato il fatto che noi abbiamo la colonna iesima, quindi la notazione precedente ho messo in evidenza quello che farete. Poi comunque io domani vi do un modello di punto M su cui lavorare, così finiamo in tempi diciamo ragionevole. Quindi questo è ancora MATLAB, semplicemente un po' più compatto, diciamo è un pseudolinguaggio. Per cui io qui posso chiamare questa funzione che qualcuno mi ha scritto, qualcuno mi ha dato nella laboratoria. La prima cosa che devo notare è che non ho bisogno della misura delle accelerazioni. Questo sarebbe stato un limite estremamente grave, perché? Perché l'accelerazione è una grandezza che sia che esista il sensore, che non esista estremamente rumorosa. Quando vado a usare l'accelerazione, se io ci metto l'accelerazione in un sistema dell'accelerazione, probabilmente sopportando dentro il ciclo di controllo il rumore di questo segnale, per cui porto in banda questo rumore e metto chattering che chiaramente non fa piacere, non fa bene al sistema di controllo. Questa che io ho chiamato compensazione dinamica fa parte di una grande famiglia di controllori che esulano dalla sola robotica, fanno parte della teoria del controllo, che si chiama feedback linearization. È un approccio abbastanza classico nel controllo non lineare. Qual è il grande limite della feedback linearization? È che io devo conoscere bene il modello che sto andando a compensare. A volte si può fare, a volte non si può fare. Anche a livello cinematico, il controllo cinematico vi ho detto, noi stiamo facendo una sorta di linearizzazione della dinamica, però in quel caso non mi preoccupo perché lo jacobiano, io lo conosco estremamente bene, perché nello jacobiano ci sono solo delle lunghezze e le lunghezze dei bracci sono una grandezza che io conosco con una grandissima precisione rispetto ai parametri dinamici come gli attriti. Gli attriti immaginate come qualcosa di sporco che cambia spesso con l'usura, con la temperatura, per cui è difficile da stimare. Le masse, i momenti primi, le inerzie si conoscono un po' di più, però una cosa il CAD e una cosa poi quando andate a montare il robot. Magari la densità del materiale non è la stessa che è stata messa nel modello CAD, magari qualche pezzo lo cambiate da un altro fornitore ed è non è la stessa lega e così via. Ok? Per cui dovete conoscere bene il modello e non sempre questo è possibile. Guardate, se voi fate la simulazione del vostro controllore mettendoci i parametri veri, non ha nessun senso. Perché? Vi faccio vedere che cosa state facendo se ci mettete, se voi ci mettete i parametri veri, significa che qui state usando le stesse numeretti sia nella simulazione che nel controllo e quindi alla fine quello che voi state simulando è questo. Per cui, diciamo, questo è un errore abbastanza classico che si fa quando si perde di vista l'aspetto ingegneristico fisico di questo tipo di controllo. Se io faccio la simulazione a sinistra e a destra ho gli stessi identici numeri, quindi di fatto io sto usando un cannone per sparare una zanzara perché quello che simulo alla fine è questo. E se ho fatto un bug, questo come debug non serve assolutamente a niente. Perché immaginate che voi avete un 10.000 a destra, 10.000 newton metri che vengono dal nulla perché avete sbagliato a scrivere, se state usando la stessa cosa, cioè avete 10.000 a destra e a sinistra, per cui nel vostro debug, nella vostra simulazione, quel 10.000 viene cancellato, quando voi lo andate a mettere sullo robot vero, quel 10.000 che è un numero inventato molto alto, che fa? E quello va nel motore. Per cui non serve neanche come debug fare la prova con i valori esatti, bisogna fare attenzione anche al debug. Vi faccio vedere un po' che faccia il modello matematico, così del controllore, così vi faccio un po' vedere. Allora, questo è quello che avete, potete scaricare da internet, voi su questo modello farete il progetto. Voi farete il progetto usando entrambi i modelli, quello del Niro e quello dello Iaco, perché voi avevano 9 crediti e li dovete, diciamo, conquistare. Mentre invece Meccanica e Engineering usano solamente il Niro. Allora, questo è il modello matematico, qua ci sono tutte quante le terne, ci stanno la posizione di home, le velocità di rotazione positive secondo la convenzione Iaco, i fine corsa meccanici, le velocità minimo e massimo, e poi qua vi dice dove andare a prendere il codice, non bene? Ora, il codice, vi faccio vedere per esempio il termine non lineare, beh, il termine non lineare è una riga stupida che chiama altre due funzioni, una la gravità che abbiamo già visto e l'altra la corolli e centripeti. Corolli e centripeti è una funzione particolarmente onerosa dal punto di vista simbolico. Allora, questa è la funzione generata automaticamente, per cui all'inizio che cosa faccio? Io dico guarda, i segni e i coseni, siccome li devi calcolare centinaia di volte ogni chiamata, tu calcolameli solamente una volta e li assegni a delle variabili S1, S2, S3, in realtà S1 e C1 non ci sono perché non ci sono nel modello. Poi, beh, poi guardate, questo è C1,1 per esempio. Adesso rischio di bloccare il calcolatore perché questa è una funzione, diciamo, un po' scocciante. Ecco qua, va bene? E questo va avanti per qualche pagina. Questo è il modello matematico, calcolato in automatico con l'equazione di Newton o Lero, che io vi metto a disposizione. È chiaro che voi non dovete, come vi ho detto, neanche aprirla. Alla fine non è tanto perché sono 200 KB, se potete fare il calcolo di quanti caratteri sono. E questo è la B, va bene? E più o meno è la stessa cosa, possiamo dire. Questo è B,1,1, è la riga 29 e questo è B,1,2 e via, e così via. Va bene? Chi sono i termini? Guardate, dal punto di vista della dipendenza, coseno di teta 2, coseno di teta 3, coseno di teta 4, coseno di teta 5 al quadrato, coseno di teta 2, coseno di teta 4, tutti moltiplicati. Questo è uno dei termini che vengono in additivo a tutti quanti. Ok? Io li conosco questi, sì, la dipendenza la conosco, quello che non conosco bene è questo numeretto. Chiaro? E vabbè, questo è il numero espresso come numero, diciamo, razionale, diciamo, non conosco tutti questi numeri, non conosco bene. Questo in particolare che vi faccio usare a voi sono i numeri identificati sul robot, una delle identificazioni fatte. Ok, allora, domande su quello che abbiamo visto oggi?